Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario è dedicata alla polemica sorta tra i componenti del comitato degli ex lavoratori del clorosoda di Gela e il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Il governatore nello scontro a distanza con Nello Musumeci sul tema delle trivellazioni aveva sostenuto di aver avviato negli anni delle battaglie. Una su tutte, quella sui veleni dello stesso clorosoda. Sentiamo. E' polemica tra i componenti del comitato degli ex lavoratori del clorosoda del presidente della regione Rosario Crocetta. Non sono piaciute affatto le dichiarazioni del governatore che nello scontro a distanza su petrolio e trivelle con Nello Musumeci di Diventerà Bellissima ha sottolineato di aver avviato negli anni delle vere e proprie battaglie da assessore sindaco ed eurodeputato. Una su tutte, quella sui veleni del clorosoda. A noi non interessa la querella che esiste tra lui e Musumeci, inerente al faccia o meno o sia presente in quelli che sono i libri paga dell'Ene. A noi questo non ci riguarda. A noi interessa invece la concretezza. Il signor Crocetta, durante la sua vita politica, solamente mi ricordo durante la trasmissione di Rai Trevi all'Italia in diretta, disse che era a conoscenza dei fatti e dei misfatti del reparto perché aveva lavorato in questo reparto. Ma le mie domande solgono spontanee e nell'ambito in cui io vorrei rivolgere a questo signore dicendo come mai, essendo a conoscenza dei fatti e dei misfatti del clorosoda, non è stato mai in procura a prendere dichiarazioni spontanee? Come mai non ha sentito la necessità di chiamare questo gruppo? Come mai? Ci sono tanti come mai. Adesso non si può tirare in ballo la querella con Musumeci per farsi da scudo a quella che è la vicenda del clorosoda. Il clorosoda, la vicenda del clorosoda l'abbiamo seguita noi da 11 anni a questa parte. Noi abbiamo perso i nostri genitori, nessuno ha perso i propri genitori. Noi abbiamo collaborato con la magistratura, nessun politico ha collaborato con la magistratura. Una cosa che devo precisare è che c'è stata una commissione del comune che ci ha chiamato una commissione della sanità ma ha servito solamente per farsi campagna elettorale. Le vere battaglie le ha fatti chi ha perso la vita che sono gli ex operai, noi familiari che abbiamo passato intere giornate dentro vari ospedali in vari posti d'Italia e noi abbiamo fatto la battaglia, ma questa battaglia per la verità e giustizia. Gli unici che hanno fatto insieme a noi questa battaglia, che hanno creduto e vogliono venire a scoprire la verità si chiamano magistrati della procura di Gela. A loro sì che va un grazie, ma per il resto la politica rimanga fuori da questa vicenda e non strumentalizzi proprio questo dramma, questa vicenda per fini elettorali. E adesso parliamo della conferenza dei capigruppo consigliari in merito alla proposta del sindaco di Gela, Domenico Messinese, di realizzare un'area da riservare ai nudisti. Vediamo. Arriva il sì dei capigruppo consigliari all'area naturista proposta dal sindaco di Gela, Domenico Messinese. Ci sono però dei paletti, non più se chilometri di costa riservate ai nudisti, ma solo uno. Il tratto individuato è quello terminale tra il Lago Biviere e il Dirillo. La conferenza dei capigruppo promossa dal consigliere comunale del Partito Democratico Enzo Cirignotta si svolta ieri. Diversi punti che sono stati trattati, quello della riflessione morale, della ricaduta economica e dei servizi che saranno offerti all'utenza. Presenti il primo cittadino, il presidente del Consiglio Comunale Alessandra Acia, lo stesso Cirignotta, Salvatore Scerra di Forza Italia, Luigi Di Dior Reset 4.0, Guido Siracusa del Polo Civico, Enzo Giudice del Movimento 5 Stelle ed Enzo Cascino di Lista Musumeci. L'idea del sindaco è un'idea da non sottovalutare, anche perché dopo l'addio dell'industria possiamo dire che effettivamente dobbiamo cercare altre soluzioni alternative per portare un po' di sviluppo e quindi se non questa trovata buona da parte del sindaco non ci trova praticamente a noi anche i doni ad accettare le situazioni del genere che possono portare soltanto novità alla nostra città. Quindi l'idea del sindaco diventa un'idea importante, da valutare anche attentamente sul piano urbano del demanio marittimo, perché andrà ad occupare una striscia di demanio, una striscia di proprietà privati e comunque una parte di territorio che fino ad oggi, la parte verso est, è stata sempre attinta per diversi scopi come quella della serricoltura e dell'agricoltura. Quindi siamo nelle condizioni di poter dare un assenso alla sindaco per trovare questa sua genialità, la direi perché di fatto potrà portare il turismo e il sviluppo al nostro territorio. Però è chiaro che voi durante la conferenza di ieri avete rimarcato un concetto che non ci sia un turismo mordi e fuggi. È chiaro che dietro a questa scelta bisogna trovare anche accanto a questa area che diventerà un campo per nudisti delle cosiddette infrastrutture che potranno allocarsi per quanto riguarda pernottamenti, per quanto riguarda attività dicettive e nonché per ristorazioni che possono col tempo, fermo restando, che non è che un progetto che parte subito quest'anno, perché ha bisogno dei pareri, delle valutazioni ambientali anche sotto l'aspetto di recupero di quella spiaggia. Due persone sono state salvate dagli uomini della Capitaneria di Porto di Gela, sono stati rintracciati a largo della torre di Manfri a bordo di una tante in difficoltà a seguito di un'avaria al motore. È stata una telefonata al numero blu 1530 a mettere in allarme la Capitaneria di Porto. La moto vedetta della Guardia Costiera al comando del maresciallo Cappello, dopo aver intercettato l'imbarcazione, ha tratto in salvo le due persone a bordo e rimorchiato il natante. Lo hanno arrestato dopo un inseguimento per le strade della zona industriale di Gela. Ha cercato in tutti i modi di dileguarsi tra le sterpaie della campagna limitrofa, ma è stato bloccato ed ammanettato. Protagonista della vicenda è il gelese Giuseppe Trubbia, 20 anni. Ad acciuffarlo sono stati gli agenti di polizia del locale commissariato, diretto da Francesco Marino e coadiuvati da Massimiliano Santoro. Il ragazzo, con precedenti per reati contro il patrimonio, aveva commesso un furto di tre moto da competizione del tipo cross, rubati da un capannone adibito alla lavorazione di gelati. Con lui c'era un altro soggetto rimasto al momento sconosciuto. Alla vista della polizia, Trubbia ha tentato una disperata fuga, ma, come dicevamo, è stato bloccato ed arrestato. La zona industriale, da alcuni mesi a questa parte, è diventata bersaglio dei ladri. Numerosi i furti registrati. E la polizia, proprio in merito a questa impressionante scarescione criminosa, ha aumentato i controlli, soprattutto nelle ore notturne. Sempre la polizia, con il coordinamento del responsabile delle volanti, Laura Romano, ha arrestato Massimo Scudera, 37 anni, risultato assente al controllo effettuato dagli agenti presso il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari. Costruiamo il futuro in una città che cambia. Dalla rassegnazione al progetto per una nuova economia sociale, è il titolo del convegno promosso dalla Diocesi di Piazza Armerina tramite l'Osservatorio Pastorale di Gela, fortemente voluto dal Vescovo Rosario Gisana, che si terrà venerdì 29 aprile alle 17, presso l'auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. L'Osservatorio Pastorale Cittadino, composto da laici impegnati con una significativa esperienza di animazione sociale, provenienti da tutte le parrocchie gelesi, è presieduto dal vicario foraneo Michele Mattina ed è stato costituito in supporto al servizio del Vescovo con la missione di sostenerlo nella sua azione pastorale. Adesso parliamo del botta e risposta su Radio M2O tra la conduttrice e un assessore comunale, pomo della discordia, la definizione di Gela come città non proprio bellissima. Sentiamo. Un serrato botta e risposta è andato in scena ieri mattina in diretta nel corso della trasmissione radiofonica dell'emittente M2O condotto e studio da Selvaggia Lucarelli, protagonisti e l'assessora alla cultura del comune di Gela Francesco Salinitro e la stessa conduttrice. L'oggetto del contendere è la definizione da parte della Lucarelli in una precedente puntata del suo programma di Gela come città non proprio bellissima. Questa affermazione aveva scatenato una reazione da parte di moltissimi utenti dei social network gelesi che in un moto d'orgoglio hanno anche lanciato sul web un hashtag dedicata alle bellezze paesagistiche di Gela. Ieri l'intervento in diretta dell'assessore Salinitro. Francesco Salinitro, pronto? Sì, pronto, buongiorno. 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 Grazie di avermi contattato. Prego. Minuto. Allora guardi, riassumo io perché non... Sa capire. Prego, se ne lascia. L'altro giorno hai detto solo che Gela non è bellissima, ok? Tutto quello che ho detto è questo. Lei ha risposto in un post e anche altri giornali dicendo che ho detto una cosa sciocca, ho detto delle cose stupide, eccetera. Mi dice per cortesia cosa c'è di sciocco nel dire che Gela non è bellissima. Allora, di sciocco c'è soltanto il fatto che se lei avesse detto che Gela non è una città bellissima, nulla avremmo detto, invece lei l'ha presa come paradigma di bruttezza, nel senso che una signora che è stata portata a Malta è stata delusa da ciò che ha visto a Malta e lei ha detto forse in realtà non l'hanno portata a Malta ma a Gela. L'hanno scaricata a Gela. Esatto. Allora questo è un elemento negativo perché ovviamente se fosse stata portata a Gela avrebbe avuto ragione a lamentarsi. Allora, siccome noi stiamo facendo degli sforzi enormi per far conoscere la città diversamente dal luogo comune di come è stata conosciuta negli anni del petrolchimico che ora ha chiuso questa cosa danneggia il gran lavoro che stiamo facendo per riprendere le fila di ciò che Gela era prima del petrolchimico quando il turismo era uno dei punti di forza dell'economia gelese. Ma questo punto di forza è dato da che cosa? Dal fatto che ha delle spiagge bellissime, meravigliose ha dei reperti archeologici straordinari altri se ne trovano in continuazione. Cioè se io dico che Gela non è bellissima lei non trova che sarebbe invece pubblicità ingannevole dire che Gela è bellissima? Io non ho detto che Gela è bellissima io ho detto che Gela non è bellissima e ho capito che ho detto Gela e oggi tocca Gela, domani tocca Civitavecchia e non dire Gela è bellissima e per te devo dire Civitavecchia? Scusi, mi è uscito Gela e ho detto Gela ce ne sono tante di città brutte Allora io ho voluto rimarcare che questo esempio di negatività non corrisponde a verità lei vede a Gela io invece ribadisco che Gela non è bellissima corrisponde a verità la mia affermazione è vabbè io ho capito Oggi alle 17 nei locali della scuola Verga la sezione gelese UCIM guidata da Giuseppina in piduglio organizza il convegno sul tema la legge 107 del 2015 dalle riflessioni propositive alle indicazioni educative, didattiche ed organizzative relazionerà il vicepresidente nazionale UCIM Giacomo Timpanaru Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlandovi del malcontento registrato dai residenti di Contrada Medica l'acqua non arriva infatti da diversi giorni siamo andati a vedere Ci troviamo in Contrada Medica i residenti di questa zona stanno patendo un problema ormai da un po' di tempo registriamo l'assenza di una condotta idrica quindi le conseguenze quali sono? Le conseguenze sono che noi usufruiamo di un servizio fornito dal comune ma il servizio è alquanto scadente è alquanto inesistente in alcuni periodi dell'anno in estate quando viene Manfria viene popolata dai non residenti che usufruiscono pure di questo servizio io mi sono stancata veramente non chiedo niente di che non chiedo di avere una città eccezionale non chiedo di avere una città pulita cosa che non è non chiedo di avere una città con le strade decendi dove si possa camminare chiedo una cosa che dovrebbe essere un diritto civile per ogni cittadino l'acqua non sto chiedendo vino, whisky chiedo l'acqua che è indispensabile il primo diritto è indispensabile io con le cinque persone dentro avrei diritto a 30.000 litri acqua ma non mi danno neanche 20.000 figurati se chiedo i 30.000 abbiamo dovuto estirpare piante non posso più piantare fiori e ho un giardino enorme e io mi devo privare di abbellirlo con i fiori io avrei dovuto ricevere i miei 10 metri cubi di acqua perché me ne danno 10 metri cubi ogni 15 giorni esattamente giorno e 5 era segnata ma questo servizio come lo pagate? noi lo paghiamo anticipatamente quindi è anche una questione di servizio pagato e del quale poi io non usufruisco come lo pagate? con i bollettini noi facciamo il versamento al comune 50 euro al mese per 20 metri cubi d'acqua paghiamo l'acqua come più della benzina e quindi poi viene erogato questo servizio di fatto noi paghiamo anticipatamente quindi lei avrebbe già pagato per aprile? sì, io ho pagato per aprile io ho chiamato in comune mi hanno detto che se ne parla la prossima settimana la ricerca che cura presente e futuro è il tema che sarà dibattuto sabato 16 aprile prossima alle 10.15 presso la sala congressi dell'hotel Villa Peretti di Gela nell'ambito dei festeggiamenti del 25esimo compleanno della delegazione locale AIRC relazioneranno Riccardo Vignieri presidente del comitato Sicilia AIRC e Vincenzo Bronte ricercatore condurrà i lavori il giornalista Franco Infurnan e da notizia la delegata AIRC di Gela Graziella Condello nell'ambito dei processi formativi e di aggiornamento per il corpo docente avrà inizio domani alle 16 presso l'istituto comprensivo Enrico Mattei di Gela un laboratorio di danza movimento terapia espressivo relazionale il corso sarà tenuto da Bianca Daparo il laboratorio vedrà la partecipazione di 20 docenti insegnanti di sostegno insegnanti curriculari della scuola primaria e secondaria di primo grado dello stesso istituto questa peculiare esperienza formativa rappresenta una preziosa opportunità per sviluppare competenze relazionali e una comunicazione costruttiva ed efficace ha detto il dirigente scolastico Agata Gueli Adesso parliamo di sport monta l'attesa in città per la sfida che vale la conquista della serie di domenica il Gela deve vincere contro il CUS Palermo vediamo Era il 21 giugno del 2009 il Vincenzo Presti si colorò di bianco e azzurro tutti allo stadio si giocava la finale playoff per accedere in prima divisione non andò bene purtroppo alla squadra allenata dal compianto Vincenzo Cosco ma in quell'occasione ci colpì la straordinaria partecipazione dei tifosi stadio stracolmo in ogni ordine di posto tutti a sostenere la propria squadra del cuore Gela che si era riversata in massa a seguire le gesta degli atleti che indossavano la maglia della propria città abbiamo preso spunto da queste immagini perché l'ospicio è quello che domenica prossima si possa ripetere la stessa identica scena ma è chiaro con un risultato completamente diverso in campo è pur vero che non si gioca per approdare in terza serie l'attuale Lega Pro ma si gioca per conquistare la Serie D ed è sempre una conquista da qualsiasi prospettiva la si vede perché il Gela che è ripartito dalla terza categoria negli anni ha saputo riconquistare la fiducia dei propri sostenitori ed anche di quelli che dopo la mancata iscrizione della squadra in terza serie si sono allontanati adesso è giunto il momento di risalire e l'occasione unica è quella di domenica prossima dopo la sconfitta rimediata a Paceco contro il Dattilo Noir che ha fatto perdere alla truppa allenata da Toto Bruculeri il primo match point per l'assalto di categoria non c'è altra scelta vincere contro il Cus Palermo e brindare qualsiasi altro risultato contro i palermitani stravolgerebbe tutto o quasi per mettere tutto in cassaforte dunque per accedere in Serie D la compagine tanto cara al presidente Angelo Tuccio deve conquistare l'intera posta in palio perché il distacco dalla San Cardaldese si è ridotto da 5 a 2 punti vincere dunque e basta e poi sarà festa una festa bianca-azzurra è già partita intanto la pre-vendita dei biglietti i tagliandi possono essere acquistati da Pausa Internet in Via Venezia 316 Ottica Centrale Castarà in Via Navarra 19 e Tabaccheria Floridia in Viale Corte Maggiore 49 a Macchitella confermata l'iniziativa avviata già da alcune settimane a questa parte dal club calcistico gli studenti delle scuole medie e superiori della città pagheranno un euro per accomodarsi in curva Angelo Boscaia è prevista per venerdì 15 aprile prossimo alle 19 l'inaugurazione della sede della scuderia Valvole Pistoni Gela diretta da Davide Millauro si tratta di un'associazione di amatori e cultori di auto d'epoca l'iniziativa si terrà in Via Portuense al numero 17 nel quartiere Fondo Iozza al via la terza edizione del concorso nazionale di musica Gelas Music città di Gela riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie ad indirizzo musicale per i giovani solisti virtuosi dei 13 ai 18 anni l'evento si terrà dal 30 maggio al 1 giugno presso il Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli e al Teatro Eschilo di Gela i premi toccano le 5.000 euro oltre alla medaglia di rappresentanza della Repubblica Italiana sono previste targhe e menzioni speciali il direttore artistico e il maestro crocifisso Ragona collaborato dal presidente dell'associazione il Tempio di Apollo Chiara Valeria Cace dal presidente dell'associazione Giovani Musicisti Giussi Rinzivillo Ragona C'è l'informazione cinematografica e ustica per 35 anni ti hanno nascosto la verità il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela sono tre gli orari di rotazione della pellicola 17.30 19.30 e 21.30 domani alle 21 e giovedì 14 aprile alle 18 e alle 21 nell'ambito della stagione teatrale sarà portato in scena lo spettacolo attenti a quei due la regia è di Luigi Licata con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti